La politica e la cultura, la battaglia, l'azione politica e le idee corrono spesso su due piani paralleli che non si incontrano mai, o almeno si incontrano soltanto in rari momenti, che sono i momenti rivoluzionari, i momenti della trasformazione radicale, per cui la cultura, le idee effettivamente influiscono e gli uomini di cultura si impegnano anche politicamente, assumono direttamente delle responsabilità, ma nei momenti tranquilli della storia la politica fa una strada diversa da quella della cultura. Grazie. 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 Grazie.